Buongiorno a tutti, ben ritrovati, un cordiale saluto a tutti voi cari telespettatori di FanoTV sul canale 17 tutte le mattine come sempre la rassegna stampa alle 7.30, occhio ai giornali che comincia con il santo del giorno, lo vediamo subito, oggi è San Pellegrino, il sole sorto alle 5.54 e tramonterà alle 20.15. Guardate che immagine quella che vi proponiamo questa mattina in diretta alle 7.30, un'immagine che è a tutt'altro del primaverile, anzi sembra una fotografia scattata nel pieno dell'inverno, invece è quella che ci propone e ci mostra la telecamera e la webcam del nostro osservatorio meteorologico, quello di FanoTV che è visitabile attraverso il nostro sito internet occhiolanotizia.it, c'è la nebbia questa mattina quindi fate attenzione mentre le temperature sono decisamente confortevoli, 15 gradi e 6, 15 e 6 alle 7.30 del mattino, vediamo allora che tempo ci attende per la giornata di oggi, avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi, eventi di brezza tesa sud occidentale, il mare sarà poco mosso, dunque non resta altro che attendere il dissolvimento della nebbia per godere di questa nuova giornata di sole con temperature anche gradevoli. Per la giornata di mercoledì 6 maggio invece domani avremo cielo sereno poco nuvoloso con aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata con temperature in aumento nei valori massimi, eventi saranno di brezza tesa sud occidentale, il tempo si guasta invece giovedì 7 maggio con cielo inizialmente nuvoloso e rapida diminuzione della nuvolosità già dalla mattinata, nelle prime ore della mattinata, nelle prime ore della giornata però avremo locali rovescio temporali in esaurimento già dopo le 10 del mattino, eventi di brezza tesa nord occidentali. Il tempo nei prossimi giorni sarà stabile con probabile rapido peggioramento ad inizio della prossima settimana seguito da indicazioni di un nuovo periodo di tempo stabile e soleggiato. Giornate di sole, giornate però con qualche pioggia che hanno inciso sul calendario dei lavori di asfaltatura nella città di Fano, lavori che trovano lo spazio in prima pagina sul resto del carlino di Fano. Da oggi disagi anche per il traffico in Viale Buozzi e Viale Gramsci che appunto verranno asfaltati. Per tutta la settimana problemi di circolazione a causa dei lavori. Il sindaco di Serie ha chiesto pazienza agli automobilisti, condizioni stradali critiche, gli interventi andavano fatti. In un primo tempo si era pensato di poter eseguire i lavori nelle ore notturne ma secondo i tecnici le condizioni meteo di questo periodo sconsigliano le asfaltature nelle ore notturne a causa dell'abbassamento delle temperature. Tra l'altro il giornale ricorda che passerà anche il Giro d'Italia alla Civitanova Forlì del 19 maggio prossimo dalle 14.30 alle 15 dove proprio a Fano lungo Viale Gramsci è previsto il rifornimento dei corridori dei ciclisti. Marcucci a casa con Cantiani. È finito l'incubo del Nepal. Sono rientrati a casa Pietro Marcucci di 49 anni e Gianluca Cantiani di 51. i due fanesi che si trovavano in Nepal durante il recente tragico terremoto. Entrambi sono di nuovo nelle loro abitazioni dove hanno potuto riabbracciare i familiari. Un black block fanese è stato denunciato. Negli zaini aveva tre caschi da motociclista, dei guanti e bombolette spray. Un 33enne che è stato fermato in A14 in autostrada prima degli scontri ed era in viaggio per Milano. Oltre ad una piantina dell'Expo trovati volantino e felpa con cappuccio e uno scaldacollo nero. Nei giorni scorsi è stata data la notizia dell'aumento dei posti per parcheggi destinati ai camperisti però la Confcommercio non ci sta. È pronta a denunciare il comune di Fano alla magistratura. Ha ragione, dice e scrive Varotti, il segretario provinciale della Confcommercio. Ha ragione Varotti, ragione Capecchi dice quando protesta contro l'aumento dei parcheggi per camper a Fano. Perché ce l'hanno tanto con l'aumento di questi parcheggi perché ovviamente se la gente viene in camper non va in albergo. Non so se è una tesi che regge, andrebbe un attimo studiata un po', capita un po', soprattutto anche con i dati. Chi ha il camper ha il camper e non ci pensa minimamente ad andare in albergo. Quindi non so se questa tesi può stare in piedi, però ci si può ragionare, ci si può vedere, si può discutere. E comunque si parla di danno economico, danno economico elevatissimo alle strutture ricettive e ai campeggi del territorio. Insomma Varotti dice ci rivolgeremo alla magistratura. Andiamo ancora avanti sul resto del carino. La politica, insomma siamo ormai nel pieno della campagna elettorale, anche se arrivano le ultime candidature. Fano deve riavere ciò che le è stato tolto. Parla Elisabetta Foschi, moglie dell'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi, che è di Forza Italia e che è la candidata appunto fanese. Dice no al vitalizio. Io a 60 anni, dice la Foschi, non lo percepirò perché lo considero il peggior privilegio della politica. Migrantes, il vescovo di Lampedusa sarà a Fano, inaugurazione del monumento ai caduti deceduti in mare e poi una serie di incontri. Venerdì 8 e sabato 9 maggio il cardinal Francesco Montenegro di Lampedusa appunto sarà a Fano. Ancora politica, le regionali, ma non solo regionali perché in occasione delle regionali del 31 maggio in alcuni comuni si vota come per esempio Sant'Angelo in Vado e Isola del Piano, tanto per restare in provincia di Pesaro e Urbino. Allora vediamoli questi candidati, li vedete in questa pagina realizzata dal Carlino con la grafica e le fotografie dei candidati. A sinistra del vostro teleschermo vedete i due candidati che si presentano a Sant'Angelo in Vado, progetto comune da una parte, coltiviamo il futuro dall'altra, Massimo Guerra e Gianalberto Luzzi. Il più votato dei due succederà ad Antonio Angeloni, che è il commissario prefettizio che ha guidato la cittadina per un anno, che ha guidato Sant'Angelo in Vado per un anno, dopo che nelle elezioni del 25 maggio scorso non era stato raggiunto il quorum dei votanti. Mentre c'è un po' di Fano nella corsa alla poltrona, insomma, alla carica di primo cittadino di Isola del Piano, perché? Perché c'è anche un fanese, anche se la moglie è di Isola. Sono tre intanto le liste a Isola del Piano, Isola del Piano 610 abitanti, che si contenderanno il comune nelle prossime elezioni. Il sindaco uscente è Giuseppe Paolini, a sinistra, agente di commercio, si presenta al voto in cerca di un secondo mandato. Poi c'è Andrea Montalbini, classe 1973, fanese, ma la moglie Tiziane è appunto di Isola del Piano, responsabile per l'estero per una ditta di profilati, già consigliere comunale di maggioranza al secondo mandato a Guzzi. Poi c'è Davide di Tommaso, invece, 40 anni, di cartoceto, tecnico specializzato in cantieristica navale, è il candidato dell'unica lista dichiaratamente politica di questo lotto, di tre, ovvero quella di Forza Nuova. Ecco qua le foto, a sinistra Sant'Angelo in bar, a destra, Isola del Piano. Angherie per mesi sulla moglie, guardia penitenziaria processo, andiamo a Pesaro, la deposizione fiume della donna in lacrime. Ieri la donna, durante il processo, ha raccontato per quasi tre ore i picchi più violenti di quel rapporto, facendo riferimento al fatto che dopo alcuni anni di vita di coppia felice il rapporto invece si è incrinato. Anche qui poi sotto la notizia del comune che asfalta le strade del Giro, Viale Trieste e Panoramica. I carabinieri hanno scovato tanti gioielli in un campo nomadi di Zagarolo. Siamo vicino a Roma, la missione impossibile, eppure hanno trovato oggetti per 100 mila euro. Parte dei nomadi indagati dai carabinieri erano stati arrestati dalla mobile di Forlì alcuni mesi prima. Alcune fotografie, vedete, di questi oggetti. La risposta è una risposta standard, quella che i nomadi solitamente danno, quelli del campo ovviamente di Roma, che danno quando ci sono questi blitz dei carabinieri. Dicono l'ho comprato al mercatino di Porta Portese a Roma. È la risposta tipica che appunto hanno dato anche in questo caso, quando i carabinieri gli hanno chiesto dove avessero trovato quegli oggetti. Le perquisizioni sono avvenute circa una settimana fa. Poi c'è però la parte, questa è l'altra parte della medaglia, cioè restituire questi oggetti preziosi sarà quasi un'odissea. La maggior parte infatti sono già dati in pegno. Andiamo adesso e cambiamo giornale. Apriamo la pagina di Pesero del Corriere Adriatico, la cronaca da Fossombrone. Un detenuto del carcere di Fossombrone è stato aggredito e ha coltellato alla gola nell'ora d'aria da un altro recluso che si era procurato un'arma rudimentale. Il pronto intervento degli agenti di polizia penitenziaria per fortuna ha di fatto salvato la via al ferito che è stato trasferito in tempi record all'ospedale di Urbino e poi in quello di Pesero. Non si conoscono le identità dei due carcerati. Anche qui a centropagina da Pesero, asfaltature, lavori seri e niente rattoppi. Parla l'assessore Biancani che ha presentato il calendario degli interventi dopo l'estate, seconda tranche da un milione di euro. Ruspe in azione nel fiume Foglia per eliminare la grossa barra di Foce, un contributo minimale che non risolve però tutti i problemi di quell'area. Ancora da Senigallia, Menichelli, il cardinale, alle celebrazioni di San Paolino. Ieri era il patrono di Senigallia così come era il patrono di Ancona. Ieri San Paolino a Senigallia il cardinale ha ufficiato la messa, la presenza del Vescovo Orlandoni e dei sacerdoti di tutta la diocesi, mentre ad Ancona ovviamente era San Ciriaco. Allora sempre sul Corriere Adriatico andiamo sull'altra pagina del Corriere di Pesero di Fossombrone. Preside, scuola chiusa fino alle 8 di mattina. L'assessore contesta la decisione di Grottola, dunque si parla di non consentire l'accesso a scuola degli alunni prima delle 8 a partire dal prossimo anno scolastico. A riguardo viene espressa una forte preoccupazione in quanto questa decisione cioè di non fare entrare gli studenti prima delle 8 del mattino a scuola comporterà un grave disagio soprattutto a quei genitori che alle 8 devono invece essere sul posto di lavoro e solitamente accompagnavano i propri figli a scuola con un certo anticipo proprio rispetto alle elezioni per non avere l'incompensa insomma di attendere e di non fare tardi al lavoro. Allora liste civiche, occasione mancata, siamo nella pagina di Fano, Foschi, Elisabetta Foschi capolista di Forza Italia, Ciri prova con Gian Mario Sbacca, le battaglie per Fano, il PD dice la Foschi è sempre contro. Ancora dal Corriere, da oggi i disagi sulla Adriatica, poi invece il racconto di Pietro e Luca che tra l'altro hanno annullato la scalata dell'Everest motivo che li ha spinti ad andare appunto in Nepal per, solitamente girano tanto, Pietro e Luca sono due alpinisti che girano tantissimo, erano andati in Nepal, poi il terremoto, adesso sono a casa, c'erano rischi per le scosse di assestamento, dicono, e per il maltempo, comunque sospiro di sollievo di parenti ed amici. Poi ancora dal Corriere, barista rapinata, caccia al bandito, il colpo a luna di notte, a Marotta, in via Damiano Chiesa, l'uomo avvolto scoperto, le ha strappato la borsa e l'incasso. Chiudiamo velocemente con il messaggero, il messaggero questa mattina apre con lo sport e con la retrocessione della Vispesaro, la grande rabbia, il sindaco Matteo Ricci dice, è stato un epilogo amaro, nelle prossime settimane però rifletteremo sul futuro della società. Delusione e voglia di riscatto tra i tifosi, intanto si dimettono il direttore generale Leonardo e il direttore sportivo Danzi, ma Ricci non c'ha solo il calcio, c'ha anche la VL che non va bene e le speranze appese sono ad un filo, domenica prossima un'altra squadra pesarese, la Victoria Libertas rischia di retrocedere, incrociamo le dita e speriamo nella VL. Sul basket sono ancora più arrabbiato, dice questo perché il campionato della Visse era iniziato subito male, mentre la squadra di pallacanestro fino a qualche settimana fa aveva un margine di vantaggio importante, mentre ora deve vincere a tutti i costi, la VL non è una squadra da A2 ma da Serie A1, lo ha dimostrato per tutto il campionato, insomma l'anno nero davvero dello sport a Pesaro. La politica spacca e ceriscioli per noi sono uguali, parla Gianni Maggi che è il candidato del Movimento a 5 Stelle, poi ancora dal messaggero Expo la prima gaffa, dimenticano di invitare il testimonio al Marche, Vittorio Livi della Fiam, serviva una massa critica di aziende per portare più delegazioni e investitori da Milano a Pesaro. Sempre dal messaggero, vedete proprio una pagina intera, pagina 41 di Ricci, Ricci deluso per la squadra di calcio e per la squadra di basket, tra i tifosi tanta amarezza ma anche voglia di riscatto. Ancora dal messaggero alloggi comunali arredati con il bottino, scoperto un tesoretto, blitz dei carabinieri in provincia di Roma nelle case di ex nomadi, sequestrata refurtiva per 100 mila euro proveniente dal Pesarese. Chiudiamo con la pagina di Fano, anche qui le asfaltature al via, disagi per chi guida, con il cantiere in Viale Gramsci parte la campagna dei lavori per 266 mila euro. Intanto l'Aset chiude per tutto il mese la pista ciclabile Fano-Fosso-Segliore per installare l'illuminazione. C'è lo sciopero oggi, lo sciopero per la scuola, una barricata fatta anche di libri, mentre il Cardinal Montenegro pranzerà con i profughi, inaugurerà anche a Cartoceto la struttura sui morti in mare. Ci fermiamo qui, per la segna stampa è tutto, grazie per averci seguito, vi do appuntamento questa sera alle 20.30 con Occhio alla Notizia. Arrivederci.